E' arrivato il momento, Juventus-Real Madrid. Buonasera da Fabio Carissa. Non con divertimento dai, ciò si è alta fine. A Juventus parte con 1-0 nell'andata, deve cercare di segnare, ma deve giocare anche con grande attenzione, perché non può permettersi di incassare un gol. Dividi me life for death, but I can't choose. I swear I'll never give it in. Il cuore in area di più recente il piede da Salasita, ha cercato sul secondo palo di sorte, non ha buona idea. Guarda il primo, Imolec! Casillas! Ma che si è mangiato? Imolec c'era da solo! Addirittura con 3-4 secondi di atto, dice, come prevedibile, manda tutti a prendere un tè caldo. Finisce 0-0 al primo tempo tra Juventus-Real Madrid. Ronaldo, prova a partire lì, va via Ronaldo, accelera ancora Ronaldo, è di fronte Cannavaro. Spunto a velocità di Ronaldo, sinistro, palo! Che cosa ha fatto Ronaldo? Chiamatelo pure Gordito! Camoranesi che partecipa all'azione, c'è ancora Zemina, Camoranesi dentro la seconda palo, Ebrahimo vince! 3-3 e... Davide! 3-0-2-1-0! Signori, è spettacolare l'azione della Juventus! L'arbitro sta per mandare tutti a bere qualcosa nell'intervallo, si fai supplementare! C'è notato che forse ha colpito Tacchinardi. Oh, che calcio! Oh, che calcio! Ross, e Tacchinardi? E per Ronaldo, tutti i due fuori. Ancora Camoranesi, crossa, Triseguer, ma palla lì! Salasciata e Manzano! Salasciata! Ha fragliato! E se lo merita lui! La Juventus vince 2-0 e elimina il Real Madrid al termine di una delle serate più belle della storia di questo stadio del telelato. La Juventus vince 2-0 e elimina il Real Madrid al termine di una delle serate più belle della storia di questo stadio, del telelingero.